Benvenuti al telegiornale quotidiano sul mondo dei motori di ruote in pista, lunedì 9 novembre 2015. L'Androver. L'Androver presenta, il primo SUV compatto premium convertibile al mondo, attesissima, la versione scoperta dell'Ivoque, che arriverà nelle concessionarie la prossima primavera. A tal debutto per la prima volta su una vettura di questo tipo una cappota elettrica retrattile AZ che si apre in appena 21 secondi e si richiude in 18, anche in movimento, realizzata in tessuto, assicura all'interno dell'abitacolo lo stesso camfor della 5 porte, ma una volta aperta assicura un design unico e sensazioni di guida da cabriolè autentica. Ha, al debutto anche il nuovo touchscreen da 10,2 pollici ad alta risoluzione, ed il sistema di infotainment in control touch pro. Lamborghini. Il prezzo non varia, ma trattandosi di una Lamborghini questo è il dettaglio meno rilevante. Per il resto la Huracan si rinnova in occasione della presentazione della Model Year 2016, il sistema che disattiva 5 cilindri quando non è necessario sfruttare la piena potenza del V10, fa scendere le emissioni di CO2 a 283 grammi chilometro, mentre la trasmissione della potenza a terra è stata ottimizzata attraverso una messa a punto della trazione 4 ruote motrici, per un comportamento nella guida stradale più neutro. Ho, novità anche dal punto di vista delle individualizzazioni. Il programma Lamborghini Ad Personam, introduce infatti anche la possibilità di creare interni su misura, ed esterni che abbinano colori tradizionali a speciali vernici opache. BMW. BMW Motorrad rinnova i suoi maxi scooter sport e GT, che ora assumono entrambi la denominazione 650. Più sportivo ed individualista il primo, più confortevole ed orientato al turismo il secondo. I nuovi scooter firmati BMW, presentano una nuva rapportatura della trasmissione CVT, una taratura rivista di MLED ammortizzatori con ABS, ed ASC di serie, e, e nel caso della versione sport anche di un design ancora più dinamico ed affilato. Tra le novità, la disponibilità dell'opzione Side View Assist per il modello GT, che presenta anche un cavalletto centrale dal cinematismo perfezionato e della luce diurna automatica. A lunedì per altre news.